Gli esercizi di stretching sono particolarmente consigliati in gravidanza, soprattutto per il loro potenziale di risolvere le contratture muscolari e di sciogliere i muscoli. I muscoli infatti durante la gravidanza e tutti i cambiamenti fisici e di postura che il corpo incontra sono posti sotto stress e lavorano in una maniera completamente differente rispetto a quella che sono abituati ad utilizzare. Questo fa sì che possono accumularsi spiacevoli tensioni che se tralasciate possono diventare molto difficili da rimuovere. Allungare progressivamente la muscolatura è un ottimo sistema per mantenere un equilibrio posturale. Lo stretching è una delle tecniche più utilizzate per l'allungamento muscolare e consiste sostanzialmente nel mettere il muscolo in una posizione di stiramento e mantenere questa posizione per un certo periodo. Un elemento importantissimo dello stretching è l'esecuzione ovvero la modalità con cui si approcciano gli esercizi e con cui si eseguono. È fondamentale mantenere una respirazione lenta, ampia e costante perché bloccare la respirazione non serve assolutamente a nulla se non ad accumulare ancora più tensioni soprattutto nella regione del tronco e quindi non va a vantaggio dello stiramento ma a suo svantaggio. È altrettanto importante mantenere una progressione all'interno del movimento. È assolutamente inutile mettersi da subito dall'inizio in una posizione di stiramento molto intenso quasi fastidioso. Il corpo se stirato bruscamente soprattutto nella regione dei tendini e dei muscoli reagisce come se è aggredito e quindi contraendosi irrigidendosi e anche questa volta abbiamo scoperto che va contro a quelli che sono i principi dell'allungamento muscolare. Altra cosa fondamentale da tenere conto è che bisogna progredire lentamente all'interno del movimento di stiramento e continuare a mantenere un grado di stiramento che sia piacevole e sostenibile nel tempo. Tutti questi elementi fanno sì che gli esercizi possano essere effettivamente efficaci. Un ultimo consiglio non molleggiate mai mentre fate un esercizio di allungamento muscolare.